Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Un caro saluto a tutti da Fabio Moresco e benvenuti ad un'altra puntata di Buon compleanno Venezia. Iniziamo la puntata ricordando il Santo del Giorno, 27 luglio. Secondo il calendario liturgico veneziano, oggi è il giorno di San Pantalon, San Pantaleone di Nicomedia Martire. Al Santo è dedicata una chiesa a dorso duro. Oggi avvenne, 27 luglio 1844. I fratelli veneziani Attilio ed Emilio Bandiera sono fucilati dai borbonici a Ballone di Rovito alle porte di Cosenza, in seguito alla fallita spedizione in Calabria, dove speravano di provocare un'insurrezione popolare contro il regno delle due Sicilie. Oggi vi racconto Attilio ed Emilio Bandiera, figli del Barone Francesco, contramiraglio della marineria austriaca e di Anna Marsic, nati a Venezia, Attilio il 24 maggio 1810, Emilio il 20 giugno 1819. Educati entrambi nell'imperiale Accademia di Marina di Venezia, nominati ufficiali, uno nel 1828, l'altro nel 36, Attilio sposato il 19 ottobre del 1837 con Maria Graziani, figlia di Leone, anche egli ufficiale superiore dell'armata imperiale. Benché vestiti dall'assisa austriaca, sorse e ben presto ingigantì nell'animo dei due fratelli il desiderio di redimare l'Italia dalla servitù straniera. Per questo ideale, che in quei tempi pareva utopia, essi affrontarono la temeraria impresa che li condusse alla tragica fine. Le prime tracce della ribellione morale dei fratelli Bandiera sono contenute in una lettera scritta il 6 aprile 1836 da Attilio a Marroncelli, esule a New York. In essa egli svela la sua fede con queste parole. Ai soppressi palpiti degli italiani, che sotto il fulgido sole della loro patria trascinano le obrobriose catene della servitù, possano rispondere le energiche e libere parole di chi tanto soffrì. Nel 1840, durante la guerra di Siria, mentre i due fratelli erano imbarcate sulla nave ammiraglia comandata dal padre, cominciò la cospirazione, al fine di fondare una società segreta per raffrancare l'Italia dal dominio straniero. La società ebbe vita nel 1841 col nome di Esperia, svincolata da ogni preconcetto di monarchia o di repubblica, ma solo mirante a conseguire la libertà e l'unità nazionale. Severo ma chiaro il lungo statuto che, tra l'altro, ramentava agli associati il dovere di fare, ab inizio, getto della loro vita con freddezza di stoici, accostumandosi all'idea della morte, come alla fine di una prova difficile, e impegnava, con giuramento terribile, a non risparmiare i traditori. Pure la società si è stese in breve tempo e raccolse proseliti nell'armata, perché veneto, dalmata o estriano era il personale marinaresco ed italiana la lingua ufficiale di bordo. Il Mazzini, nei ricordi dei fratelli Bandiera, smentisce che l'esperia fosse sorta per suo impulso, e ne reca a prova una lettera del 15 agosto del 1842, nella quale Attilio gli scriveva che solo in quei giorni aveva potuto aver tramano qualche suo scritto e il suo recapito. Solo quando, verso la fine dello stesso anno, Domenico Moro, veneto anche egli e compagno dei due fratelli, ebbe visitato Mazzini a Londra, la corrispondenza fra Mazzini e Bandiera divenne assidua. In quelle lettere i Bandiera descrissero la loro vita, i loro pensieri, i loro propositi, i fini della società che avevano creato. Fu convenuto che l'esperia dipendesse dalla giovane Italia e che il Mazzini ne fosse il dittatore. Nel 1843 le notizie dall'Italia facevano ritenere la rivoluzione imminente. Il 15 novembre Attilio scrive al Mazzini che questo fermento potrebbe essere l'aurora del gran giorno della liberazione e che ad ogni patriota corre l'obbligo di cooperare. I due fratelli e Moro carezzano poi l'ardita idea di far ribellare la flotta austriaca, ribellione che doveva coincidere con un moto che un'altra società segreta, la legione italiana, preparava a Malta sotto la guida di Nicola Fabrizi. Ma l'insurrezione italiana, secondo le idee del Mazzini, avrebbe dovuto procedere la presa d'armi del Fabrizi e la spedizione militare dell'esperia. Verso la fine del 1843 Emilio si staccò dal fratello perché chiamato a Venezia quale aiutante di bandiera dell'amiraglio Paolucci e i due fratelli, nel dividersi, presero gli opportuni concerti per tenersi reciprocamente informati e, in caso di pericolo, correre la medesima sorte. Il tradimento d'un tal Tito Vespasiano Miciarelli precipitò ogni cosa. Mazzini, ingannato da lui, l'aveva mandato in Levante per avvicinare i capi del movimento insurrezionale e preparare gli apparecchi per l'azione. Il Miciarelli si associò all'esperia, guadagnò la fiducia di Attilio, gli carpi segreti e gli andò a riferire all'ambasciatore austriaco a Costantinopoli. Il governo austriaco corse ai ripari, ma per soffocare lo scandalo si limitò a richiamare nel febbraio del 44 a Tiglio, a Venezia. Nel mese stesso, Emilio, prima ancora di essere avvertito dal fratello del pericolo, ebbe per caso conoscenza di un dispaccio del Radeschi, il quale informava l'amiraglio Paolucci delle cospirazioni nella flotta, gli raccomandava di invigilare su tutti e indicava in bandiera come re principali e ordinava l'arresto immediato dello stesso Emilio. I due fratelli riuscirono a fuggire e dopo molte peripezie di viaggio si ritrovarono nell'aprile a Corfu. Riuscito vano il tentativo di arrestarli, il governo austriaco il 4 maggio 1844, e mise contro di loro un editto di citazione, al quale i due fratelli risposero essere la loro scelta determinata fra il tradire la patria e l'umanità, o l'abbandonare lo straniero oppressore. Non poteva nascere dubbio in quelle anime generose, né valse a piegarli la calda supplica della madre che si recò appositamente a Corfu e della moglie di Attilio che era morente, intromissione voluta ad arte dal Metternich e dal Radeschi. Alle preghiere delle due donne che invocavano il ritorno dei loro cari, promettendo loro il perdono imperiale, essi resistettero e facendo violenza su se stessi si irrigidirono in un sovrumano stoicismo. A Corfu, nel maggio, i bandiera concepirono due disegni di invasione, l'uno negli stati romani, l'altro nelle Calabrie. Esclusero il primo, troppo dispendioso, si determinarono quindi per il secondo, perché pareva che sulle montagne di Cosenza gli insorti si mantenessero ancora numerosi ed armati. Nel resto del mezzogiorno serpeggiassi un malcontento fermento, mentre l'Italia centrale, pur disposta a insorgere, era intimidita dalle baionette austriache addensate sul Po. Di fatto, i motti di Cosenza erano stati già repressi, ma nei bandiera ogni voce ingrandiva il desiderio e gli spingeva l'azione. Il fascino dell'idea, il tormento dell'esilio, il dovere di non lasciare solo i fratelli nel cimento, l'impazienza di rispondere virilmente all'intimidazione austriaca, mostrandosi nei fatti non volgari disertori, ma soldati della patria. Più di tutto il proposito di insegnare con l'esempio agli italiani, cadendo in battaglia per l'idea nazionale, esser meglio morire liberi che vivere schiavi. Mazzini da Londra, Fabrizi da Malta, scongiuravano il bandiera a non muoversi. Il secondo definiva l'ha progettata impresa pazza, intempestiva, di impaccio alla riuscita di altri movimenti. Tutto in vano. Ne valse a dissuadere i bandiera la parola di Nicola Ricciotti, giunto il 5 giugno a Corfu con l'incarico da parte del Mazzini di prendere concerti per una spedizione nelle Marche o nelle Romagne. Non appena fosse scoppiato in quelle province un moto di popolo ben apparecchiato. Invece il Ricciotti, cedendo un'amicizia breve di tempo ma vehemente d'affetto, si lasciò indurre ad unirsi ai due fratelli per dividerne glorie e pericoli. Alla fine di maggio era giunto a Corfu anche Domenico Moro. La notte dal 12 al 13 giugno il piccolo drappello partì sul trabaccolo Spiridione, comandato dal capitano Mauro Caputi. Erano compagni dei bandiera Nicola Ricciotti da Frosinone, Domenico Moro da Venezia, Anacar Sinardi dalla Lunigiana, Giuseppe Miller da Forlì, Domenico Lupatelli da Perugia, Giacomo Rocca da Lugo, Giovanni Venerucci da Rimini, i due fratelli Giuseppe e Francesco Tesei da Pesaro, Carlo Osmani da Ancona, Giuseppe Pacchioni da Bologna, Pietro Piazzoli da Lugo, Francesco Berti da Lugo, Giovanni Manessi da Venezia. Luigi Nanni da Ancona, Tommaso Mazzoli da Bologna, Paolo Mariani da Milano, infedele cannoniere ordinanza di Attilio, Giovanni Meluso o Maluso, antico bandito calabrese che doveva servir di guida alla spedizione e fidelmente il corso Pietro Boccheciampe, il traditore. Ma un altro traditore, un certo Domenico De Nobili, espatriato a Corfu per delitti comuni, svelò prima il progetto dell'impresa ai consoli austriaci e napoletano, sicché la navicella dei congiurati fu preceduta dalla lancia di un brigantino austriaco con un messo che recava la notizia all'ambasciatore austriaco in Napoli. I bandiere e i compagni sbarcarono al tramonto del 16 giugno alle foci del Neto. Dalle prime notizie raccolte dagli abitanti, seppero il paese calmo ed i moti di cosenza repressi. Tuttavia proseguirono, sperando che il loro arrivo improvviso spingessi i cosentini a riprendere le armi. Il 17, il Boccheciampe, simulando stanchezza, scomparve e andò a denunciare i compagni al sottotenente di Cotrona. La denuncia ebbe effetto, perché il 18, mentre i gnari del tradimento essi riposavano presso Santa Severina, le autorità borboniche si prepararono ad arrestarli. Nella notte sul 12 i congiurati respinsero un assalto di gendarmi ed urbani. Il giorno seguente, mentre si accostavano a San Giovanni in Fiore, vennero assaliti, circondati e presi da una turba di contadini armati e di urbani. Non opposero resistenza, ma nella mischia rimasero uccisi Miller e Francesco Tesei, feriti Moro e Nardi. Riuscirono momentaneamente a fuggire Mazzoli, Mariani, Giuseppe Tesei e Anni, i quali qualche giorno dopo si costituirono. Gli arrestati furono condotti a Cosenza per essere giudicati da una commissione militare. Si illuse in quel mese che precedette la condanna a Tilio, chiedendo a Ferdinando II clemenza per sé e per i suoi compagni e sperando di convertire il re alla causa nazionale. Cominciò il processo il 17 luglio. Terminò il 24 con la sentenza di morte per tutti, ad eccezione del boccheciampe, ma la sentenza sospese l'esecuzione per i cinque che si erano spontaneamente presentati. Un ordine poi venuto da Napoli limitò ancora la pena a nove, comprendendovi i capi e coloro che avevano gridato alla rivolta. Così, la mattina del 25, si avviarono al supplizio in bandiera. Nicola Ricciotti, Domenico Moro, Anacar Sinardi, Venerucci, Berti, Rocca e Lupatelli. Per gli altri, la pena fu convertita nell'argastolo, dal quale uscirono graziati nel 1846. Alla vigilia del supplizio in bandiera scrissero al padre e alla madre lettere vibranti di affetto, che non si possono leggere senza profonda commozione. Giunti sul luogo dell'esecuzione, verso le sette e mezza, Venerucci gridò ai soldati, fratelli, tirate al petto, rispettate la testa e gridate anche voi, viva l'Italia! E poiché i soldati esitavano, la voce del Ricciotti gli esortò, tirate senza paura, siamo militari, noi pure, e sappiamo che quando si ha un comando si deve obbedire. E loro i soldati spararono, ma con i colpi si udirono le grida di, viva l'Italia! Così caddero quei prodi e mentre Attilio implorava la palla fratricida e liberatrice, la moglie Maria a Venezia sognava la notte stessa l'imminente morte dello sposo e si spegneva invocandolo. Le ossa dei martiri, che dovevano essere gettate nella fossa comune dei delinquenti, furono salve per la pietà del curato della chiesa di Sant'Agostino, istigato dai liberali consentini. Durante la rivolta calabrese, il 15 marzo 1848, quelle povere spoglie, tolte dal nascondiglio, furono seppellite con onore nella cattedrale di Cosenza. Ma, sopraggiunta la reazione, il generale Busacca le fece esumare e ordinò che fossero gettate nel neto. Di nuovo salvate, con gran pericolo dai liberali, furono nascoste in una fossa del Tempio, dalla quale nel settembre del 1860 le trasse Nino Bixio, giunto a Cosenza con i volontari, e dette loro nuovamente onorata sepoltura. Finalmente, il 16 giugno 1867, i resti mortali dei Bandiera e del Moro tornarono a Venezia e furono tumulati nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. All'apoteosi assiste la madre, che morì a 86 anni, il 22 febbraio 1872. Un grazie, doveroso, per questa ricerca e testimonianza a Giulio Del Bono, nell'Enciclopedia Italiana 1930, edizione Treccani. Si conclude qui la nostra puntata, ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno, vi ricordo che, se vi è piaciuta la trasmissione, lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale YouTube Venezia Classic presenta Almanacco di Venezia. Il proverbio del giorno Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Ciao! A presto la parola dice la parola, è finito che, non vengono ma un paese, non vengono tutti i nostri spettati, non vengono ma